Ciao ragazzi, sono Andrea di Casa Surace e niente, volevamo farvi un saluto così. Ovviamente il periodo è delicato e noi dobbiamo restare a casa, è importante perché dobbiamo fare la nostra parte anche per chi in questo momento sta lavorando per noi. Noi ci siamo organizzati, stiamo lavorando da casa, a distanza, il famoso smart working e niente, volevamo darvi un consiglio, leggete, ragazzi leggete un libro, qualsiasi libro, tanta giornata è lunga, nel senso voi fate tutte le vostre cose, alzate, fate la colazione, fate il workout, la ginnastichina, la zumba, yoga, poi fornate la pizza e poi leggetevi un libro. Così, quando poi usciremo e durante la serata vi chiedono, ma hai letto quel libro? E poi dite, ah sì, sì l'ho letto, mi dice, non è vero, se vedete tale e quale, dopo questa quarantena se voi leggete, uscite, fate la serata e quando vi chiedono, hai letto quel libro? se lo vedete sì, ti spostate la serata, leggete, un bacio, non è sì la pelle, è giù?